Gaia Gozzi In provincia di Reggio Emilia, da mamma brasiliana e papà italiano. Musicalmente parlando gli artisti a cui si ispira sono Lordi, Goldfrey Peluchelli.18n partecipa all'edizione 2016 di X-Factor Italia, dove entra a far parte della squadra capitanata da Fedez. Gaia si classifica seconda e pubblica l'App New Dons, che contiene il singolo omonimo certificato disco d'oro. Negli anni successivi Gaia apre i concerti dell'Oro Nero Tour di Giorgia e continua a coltivare il suo talento per la musica pubblicando il singolo Fotogrammas. Nel 2019 che è una nuova svolta nella sua carriera, partecipa alla diciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi dove, tra le altre cose, presenta per la prima volta la sua canzone Shega, destinata a diventare uno dei tormentoni dell'estate 2020. Il 22 maggio 2020 Gaia pubblica Nuova Genesi, riedizione del suo album di debutto Genesi, che per lei rappresenta un vero e proprio nuovo inizio. Oltre a Shega, dal disco è stato estratto anche il singolo Coco Chanel. Di seguito puoi dare un'occhiata al bellissimo videoclip. Grazie a tutti. Grazie a tutti.